Allora ci vediamo il 31 dicembre in Piazzale Michelangelo, è un posto meraviglioso a Firenze, vi aspetto tutti quanti, sto preparando la scaletta con la mia band e la mia musica e sarà il primo giorno dell'anno in cui festeggerò cantando e suonando insieme con tutti voi. Vi ringrazio, saluto gli amici di Radio Bruno e il Comune e ci vediamo il 31. Ciao!